... ... ... ... ... ... ... No, non so ...un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe la Vergine si chiamava Maria Il Signore sia con voi e con il suo Spirito Siamo qui riuniti tutti insieme abbiamo preparato il nostro cuore ad accogliere Gesù in questo momento importante come il presepe divente il nostro cammino oggi si percorrerà quello di Maria e Giuseppe dei Magi per rivivere con loro le perplessità i dubbi e le paure davanti alla chiamata di Dio ma anche la gioia lo stupore e la meraviglia per le grandi opere che il Signore compie nella storia degli anni Preghiamo O Dio che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico figlio guida anche noi alla mangiatoria di Bethlehem per adorare Gesù Benedici questo presepe e tutti coloro che lo hanno realizzato e anche chi viene a visitarlo con pazienza e amore Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Amen Adesso ci metteremo dietro la Madonna e l'Arcangelo Gabriele ci fermeremo alla porta ci sono anche i sacerdoti prendono posizione anche la Madonna e poi piano piano con delicatezza gustando questa grazie a tutti Sì, fratelli e sorelle, anche una cosa molto bella.